Ok ragazzi, benvenuti sul canale PG Passone Games, un weekly abbastanza veloce. Sono un reddice tra le altre cose di una bellissima live con gli amici del canale manageriale di eFootball, ma ne parleremo domani nella consueta appuntamento di eFootball. Faccio questo video veloce perché devo fare un attimino il punto della situazione di alcune serie che ho iniziato e che però gioco forza devono un attimino interrompersi. Mi sto riferendo soprattutto alla Starfeed e da valutare se diventa una serie il buon Gotham Knight. Allora di Starfeed perché appunto sospendiamo la serie momentaneamente, ma non so quando la riprenderemo, per il semplice motivo che il buon Starfeed è il risultato, intanto appunto ci vediamo, ci vediamo un attimino quella che è sostanzialmente la, allora vediamo un po' se ci riesco, non ci riesco, Shift 8, ok, non mi ci va, comunque stavo provando per farvi vedere il punto dove eravamo arrivati, ma insomma per chi segue la, diciamo la vita del canale, quindi chi fa parte di questa community, sa più o meno dove siamo arrivati, quindi sostanzialmente dobbiamo andare, dovevamo andare a trovare il buon Barrett. Per dire la verità non dovevamo come missione trovare solo Barrett, ma dovevamo anche, e però era una missione secondaria, diciamo, arruolare, comunque far, ed entrare a far parte, diciamo, del team di Franchino, il nostro personaggio di Starfeed, la supervisora Lynn, cosa che poi l'abbiamo fatto, però poi trovavamo difficoltà perché la licella era zeppa di personaggi, ce n'erano diversi, e poi anche dovevamo andare a trovare Heller, sapete, Heller era stato insieme a Barrett catturato da dei pirati, pirati dell'aria, pirati intergalattici, ma mentre Barrett è più spocchioso, più, come dire, più dirompente, l'abbiamo conosciuto nelle primissime fasi del gioco, ha cercato un attimo di lottare, quindi è stato preso, catturato e portato via, il buon Heller invece l'hanno letteralmente abbandonato, anche perché forse credevano che fosse malmesso, comunque, diciamo, non idoneo per poter danneggiare le loro scorribande nelle galassie, e quindi l'hanno lasciato insieme all'astronave che nel contempo, dopo Parpiglia, nell'episodio che viene spiegato abbastanza bene, era caduta. Anche lo stesso L abbiamo cercato di arruolarlo, ma appunto per il problema che abbiamo avuto quella supervisore Lynn, non l'abbiamo potuto appunto prendere, ma qual è il problema? È che ha individuato, comunque presunto, abbiamo presupposto che il buon Barrett fosse nella, diciamo, nel luogo che abbiamo trovato, ci siamo trovati davanti a un esercito, un esercito che ci ha reso impossibile, se non con tanti tentativi, che vi ripeto, poi io ho terminato perché non l'ho portato avanti, comunque si è fatto trovare, diciamo, in un contesto dove il buon Barrett, insomma, è per ore sempre lì. Non riusciamo ad andare avanti, non riusciamo ad andare avanti e questo non riuscire ad andare avanti oggettivamente non è tanto per la incapacità del faccione, che c'è anche quello, ovviamente, ma bene il fatto che sostanzialmente questi avversari, questi pirati, questi, diciamo, questa CPU è molto aggressiva, ma soprattutto è tanto, tanta di presenza e noi non abbiamo armi sufficienti, vuoi perché magari abbiamo gestito male le fasi precedenti, cosa che è molto probabile, ma vuoi anche perché, oltre agli avversari, ci sono tutta una serie di contesti che ci fanno un attimino rendere il gioco un po' più. A me questa cosa mi dispiace perché siamo arrivati a una quindicina, mi sembra 14, 14, sto guardando ora nell'altro schermo, 14 episodi con questo starter che ritengo, pur essendo un gioco che non rientra nelle mie, come dire, nelle mie corde, per chi segue il canale lo sa perché l'ho detto più volte, però, insomma, tra grafiche e anche come storia, ma soprattutto a me piace tantissimo andare a esplorare i vari mondi, è un open world veramente esagerato, però d'altro canto bisogna anche essere bravi a gestire determinate forze perché altrimenti, come in questo caso qui, succede quello che è successo. Mi dispiace perché non abbandonare, ma sospendere, non so, a data di destinarsi questa serie, perché insieme ad altre serie vedi Quantum Break, ad esempio, vedi la serie di Mafia 3, ad esempio, siamo arrivati in un punto in cui oggettivamente poi c'era questa problematica, la problematica appunto di trovare difficoltà a superare. È vero che ho proposto in alternativa una nuova serie, quella nuova serie, cioè un nuovo gioco che l'abbiamo provato nel week della settimana scorsa, poi ho portato diciamo sul canale un'altra avventura, un altro episodio, quello di Gotham Night, un gioco che ho targato appunto, se non sbaglio, non ricordo chi è la, però comunque è un gioco che è appunto ambientato nel mondo di Batman, Batman è morto, insomma, se vi interessa potete vedere sia il week della settimana scorsa che è appunto, e poi ho creato una playlist con due video, due video, quindi Gotham che, diciamo, inserito nella playlist del weekly e anche inserito nella playlist dedicata al, diciamo, al gioco, cioè Gotham. È un gioco interessante, sto valutando se portare un altro episodio lunedì, lo sto valutando, ve lo dirò magari con uno shot veloce, però ragazzi, il tempo è tiranno, mi piacerebbe ritornare magari a, e portare avanti alcuni titoli che mi stanno un pochino più prendendo, vedi Forza Motorsport, che appunto sto scoprendo anche il mondo del live, a proposito, mercoledì, appuntamento fisso con questo gioco e probabilmente saremo in live, o meglio, saremo in, giocheremo con online, però vorrei farci una live, e poi volevo un attimino ritornare sui campi di eFootball e poter poi essere pronto per entrare a far parte della cerchia del canale, che vi dicevo prima, o il canale manageriale degli amici che ho conosciuto non più tardi di una decina di giorni fa, o qualche spicciolo di più, ma che insomma da subito sono entrato in sintonia secondo il mio canone di visione del mondo videoludico, e tanto è vero appunto l'esperienza della live di ieri, che vi racconterò domani, è stata una live, sinceramente, che mi è piaciuta tantissimo, poi ho conosciuto, però per poter entrare in quel gioco, o perlomeno entrare in quel mondo, bisogna che io ritorni sui campi di eFootball, altrimenti faccio figure veramente meschile. Quindi mi sono detto ragazzi, non posso fare tutto, mi asservo a questo punto l'inizio di una nuova serie nel primo natalizio, come vi avevo già detto, e vi dico già che inizieremo una serie, o perlomeno cominceremo a giocare con Hogwarts Legacy, che appunto, visto che io i giochi, perlomeno i film di Harry Potter, non i libri, perdonatemi, non li ho letti, ma i film li ho visti tutti, li associo sempre a Natale, mi sono detto, portiamo questa nuova serie, facciamola incominciare nel periodo natalizio, quindi a dicembre insederemo quella. Ripeto, non so se porterò avanti magari qualche spot, sicuramente ci troveremo con la settimana prossima, con il weekly settimanale, a parlare un po' della settimana e poi a vedere nello specifico qualche gioco, anche se poi di fatto il concetto del weekly è quello che ho portato fino a ora, è quello di analizzare un po' la vita del canale della settimana, le nuove conoscenze, i nuovi giochi, come mi sono trovato, con magari qualche intervallo, con qualche vostro compimento e quindi, come qualcuno in sede, diciamo, privata mi ha fatto notare che il weekly nasce in queste esigenze, quindi affrontare un argomento e parlarne, come sto facendo ora con voi senza farvi vedere nessun video, ma questo perché non mi riesce con Stinghard che lo sto provando perché, insomma, è un altro buon alternativa ad OBS, se non concorrente, non lo so, sinceramente, quindi lo sto provando in questa versione. Quindi quello che sostanzialmente valuterò, però magari anche con un vostro commento che fa sempre comodo, è, diciamo, vedere come impostare il nuovo weekly, se chiamarlo sempre weekly, mi dispiacerebbe abbandonare questa rubrica perché sono più di cento episodi e, insomma, sfido io quanti canali hanno, diciamo, rubriche, piccole rubriche, chiamiamole così, che hanno superato le cento puntate, cento puntate poi di cento settimane, insomma, è tanta roba e quindi magari potrei fare degli spot con argomenti specifici, sempre legati magari al mondo videoludico di 10-15 minuti, come è il weekly di questa settimana, ma lo va a ritornare. Quindi magari rilasceremo uno slot per portare dei giochi che ci sono sul Game Pass. Quindi la vita del canale è sempre in andiri-vieni, però ripeto, torneremo in campo su e-foot, magari anche qualche partita la trasmetteremo e la posteremo sul, diciamo, sul canale, dandogli uno slot, vediamo quale, e porteremo ancora avanti anche, e forza motosport, che, ripeto, vorrei innanzitutto portare il gioco a un livello tale a poter competere anche con l'online e soprattutto finalmente settare il volante, perché ho visto, ho fatto un'esperienza con l'amico Andrea, che appunto molto probabilmente sarà presente in qualche video e oggettivamente facendo una sorta di lobby a due se non hai il volante col pad, rispetto appunto, diciamo, all'offline, è veramente difficoltoso. Comunque, su tutte cose che poi magari, se ci saranno delle novità, vi avviserò. Che dire, ragazzi, io direi di chiudere qui questo weekly, quindi era serviva per fare un po' il punto della situazione su queste cose. Io ringrazio come sempre tutti quelli che si sono divertiti durante la settimana a vedere le geste del faccione. Avete visto, la settimana abbiamo incominciato una nuova serie, quella la porteremo avanti, anche se mi delude un po', ma ne parleremo magari nel prossimo in maniera un po' più dettagliata, il prossimo weekly, quella appunto della carriera giocatore, quindi abbiamo visto parallelamente la vita calcistica dell'allenatore padre e la vita calcistica del figlio. Io ho cercato appunto di creare questo contesto e ho visto che comunque sia le sue visualizzazioni, che non sono le stesse della stagione precedente, quella ripeto, ma lo ve lo dico anche durante i video. Però vabbè, spero che prima o poi ci sarà anche un ritorno all'origine, come dico, di quelli che appunto prima calcavano, guardavano le gesta di Gattuso. E sono molto compiaciuto anche che piaccia le mie avventure, le mie prove, le mie gare con Forza Motorsport, con la speranza appunto che magari anche l'online e provare diciamo più macchine con il volante, anche se ragazzi su Forza Motorsport 8, se voi garaggete con tante auto non riuscirete mai a settarle al top, soprattutto per chi può giocare online, io ripeto, voglio avventurarmi in questa, in questa diciamo modalità e guardando un po', insomma facendo un po' di giri, la modalità online, se hai una macchina che non hai usato tanto per tante gare, se non sei competitivo. Però insomma ragazzi, per scoprire un po' varie macchine, tra l'altro se ce ne sono tante le garage, ora giocandoci, vincendo, ho visto che insomma la mia cassaforte ha diversi soldi da poter spendere, soldi virtuali ovviamente non reali, da poter spendere e poter comprare, ma che gare anche qualche macchina strana, poi magari lo vedremo. Però insomma ringrazio tutti quelli che si sono divertiti. Ragazzi io direi di chiudere qui questo weekly, una settimana, ripeto, passata, la settimana prossima, diciamo che garantirò le due puntate relative alla carriera del QPR, taggata a Mister Allegria, cercherò di avere anche due episodi, cercherò uno sicuramente, ma due episodi del buon, della buona carriera del giocatore, quindi già slot, quattro slot sono riempite, poi la settimana, il mercoledì con la partita, con la gara di, scusate, con la Forza Motorsport. Quindi in teoria sarebbe questo il programma, il lunedì e il venerdì la carriera del giocatore, il martedì e il giovedì la carriera del QPR e il mercoledì il video dedicato a Forza Motorsport. Vediamo se magari, come abbiamo fatto la settimana scorsa, ma non garantisco, facciamo qualche altra slot. Quindi questa settimana non ci sarà neanche Gotham Night, quindi anche questa serie sarà un attimino. Sapevo già che non poteva essere una serie, però ho voluto proporvi un secondo episodio e poi nominerarlo come numero due, perché era molto carina, perlomeno, ma continuo a dirlo che era molto carina, ma ragazzi per gli impegni che io posso avere non riesco a seguire una serie. Mi preparo per poter poi fare effettivamente una serie, quella dedicata al mondo di Harry Potter, anche se Harry Potter in Hogwarts Legacy. Comunque, insomma, il mondo è quello e si rifà tanto a quelli che sono i libri e i film, appunto, targati Harry Potter. Grazie, io vi saluto, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, mi invito sotto, trovate tutti i collegamenti a cui farvi finito il canale. Vorrei riattivare anche la community del games per poter organizzare qualche torneo, ho visto che ora la funzione crossplay c'è, quindi non ci abbiamo più scuse, sia di football che, appunto, anche se di football, ragazzi, ripeto, fatemi cercare di entrare nell'ordine di idee, perché non a buon dono, ovviamente, FIFA, perché sono FIFA, FC, perché rimane comunque il gioco trainante per il momento, però, appunto, potendo, volendo entrare anche nel mondo del manageriale con gli amici del canale, che, appunto, domani vi racconterò un po' meglio, devo per forza giocarci, perché altrimenti faccio l'idea. i polli. Io con questa mia massima vi saluto e vi do appuntamento. Alle prossime. Ciao.